In questa puntata, Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia e in particolare della campagna vaccinale in Toscana. Ma è accaduta una cosa un po' strana, l'opposizione con otto firme può chiedere la Commissione d'inchiesta, aprile scorso su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale, il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte soltanto per ritardi legati all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo all'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stato l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza, non hanno votato l'ufficio di presidenza quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina, anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità, quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci teniamo, ci tenevamo e ci teniamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale ci importano più risultati al di là degli strumenti, ora è stata istituita sul richiesto dell'opposizione ma l'avrebbero potuto fare sempre perché con otto firme che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile ovviamente senza il contributo della maggioranza, su questo è chiaro visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione la commissione d'inchiesta. Vedremo noi intanto come terza commissione, io sono il Presidente e continuiamo con il nostro lavoro. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione ma voglio dire di tutto il Consiglio ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente, sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni di tardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto, noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso, è evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo, quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza che aveva la maggioranza in quella commissione non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza, sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra l'Italia Viva e il PD che sono note e quindi si è arenata praticamente subito e oggi che non è più il tempo della commissione speciale perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta, quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto, ieri era il tempo della commissione speciale. Oggi è il tempo della commissione d'inchiesta, ci dispiace solamente che come spesso accade la maggioranza ha alzato un muro nei confronti, in questo caso della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta su la pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale ma in generale sulla gestione della pandemia perché ahimè la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinzesto nazionale delle tv e dei giornali italiani perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce non vogliamo processare nessuno non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso non vogliamo processare nemmeno il Presidente Gianni che altrettanto sia smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione e caos e insicurezza nei confronti dei cittadini però vogliamo capire che cos'è successo cos'è successo con i medici di famiglia che hanno dato la disponibilità a vaccinare a novembre sono state chiamate soltanto a marzo cos'è successo con i caregiver cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al Creaf di Prato ecco pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta come da noi proposta unica forza politica oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta dei fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione questo ci va riconosciuto un cambio di passo che c'è stato attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante abbandonato il click day dato risposta alle categorie più di altre avevano bisogno sono state date risposte in tempi a questo momento certi abbiamo riscalato le gradatorie a livello nazionale siamo arrivati a vaccinare per i primi ragazzi maturandi si sono date risposte importanti gli hub sono aumentate le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato della medicina di base quindi nel complesso la campagna di vaccinazione che va detta la verità non era iniziata bene poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio quindi i risultati sono ottenuti a questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato il lavoro è standardizzato anzi deve continuare il lavoro dei medici degli infermieri perché non è finito e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va a tutti i giorni che coloro prestano attenzione operatori sanitari infermieri volontari medici io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti molti anche di loro in pensione che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini la mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale già nell'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza credo che avrebbe potuto fare ben poco per questo come movimento 5 stelle abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione di inchiesta anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinali sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica no al sovraffollamento delle classi e sì all'organico covid è quanto prevede una risoluzione approvata all'unanimità dal consiglio la quinta commissione ha proposto all'aula una risoluzione che impegni la giunta a chiedere al governo due cose fondamentali una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi perché questa norma è vecchia ormai di molti anni l'ultimo aggiornamento risale al 2009 chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza l'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico covid il cosiddetto organico covid cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore al minore numero di alunni per classe questa è una risposta di breve periodo immediata chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il ministero istruzione ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre per questo la quinta commissione ha proposto all'aula approvandola all'unanimità un provvedimento che chieda di attivarsi incisivamente con il governo per ottenere queste due modifiche una di breve periodo, ripeto, e una di più lungo periodo che consenta di ragionare strategicamente sulla scuola con maggior cautela e attenzione un serrato calendario di incontri da aprile ad oggi per aggredire ed eventualmente sanare situazioni di danno ambientale e un altrettanto serrato programma di campionamenti richiesti da ARPAT e dall'autorità idrica toscana i cui risultati sono stati trasmessi alla procura è la fotografia del lavoro messo in campo dalla regione scattata dall'assessore all'ambiente Monia Monni in commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana l'audizione di questa settimana è servita per rendere dotti i commissari delle attività di approfondimento svolte e ancora in corso sui siti di interesse dell'inchiesta della DDA di Firenze dopo un anno di stop imposto dall'emergenza Covid torna in scena dal 15 al 18 luglio a Certaldo Mercanzia una delle iniziative culturali più conosciute e partecipate delle estati toscane il titolo dell'edizione di quest'anno ridotta e su prenotazione per il contingentamento è A Riveder le stelle dedicata a Dante faccio una piccola descrizione della festa voi entrate dal basso lungo la costa vecchia che è stata aperta, riaperta a nuovo e già lì si intravedono gli angeli e i diavoli del tema dantesco arrivate subito a entrare nella festa e c'è il quinto canto di Dante la compagnia del dragonero Paolo e Francesca e poi sempre lungo via del castello tutti questi stendardi con le frasi celebri di Dante quelle che sono passate nel linguaggio comune arriviamo a un piazza Santissima Annunziata un grande laboratorio all'aperto di artigianato come in una piazza medievale ma ecco è sulla parete dello Stiozio di Dolfi una grande installazione luminosa sempre dedicata al poeta e poi si entra nel girone dei Golossi e poi a destra, a sinistra ma ho detto ma come? taglia, taglia, taglia è come aver disboscato un bosco troppo folto e ora forse si vede ci si può gustare tante cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti